Allora sono quasi le due, non c'è nessuno in giro, ma dovrebbe esserci in ogni caso. C'è Ugo, prego? C'è Ugo. Scusi, hai visto Ugo? No, no, no. Scusi, hai visto Ugo? No, ma non hai visto. C'è la macchina, deve essere vista. Scusate, avete visto Ugo? Ugo, Ugo, Ugo. L'avete visto? Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ok, grazie. Scusate, avete visto Ugo? Ugo qua è stato prima. È stato qua? Sì, ma non so dove sei andato, un pezzetto fa. Grazie. Hai visto Ugo? Da un po' che non l'ho visto più. Ma la mangiare di carezza? Grazie. Ugo! Ugo! Gli amori che si sbagliano, è un'emozione per sempre, ma mi sono al mezzo così, il cuore nella mia... Ugo! Fumo della notte, mi chiedo a fare aspettare che... Ma andate qui, ma mi chiede, ma mi chiede, a dove non negavano se... A dove è natura mia? Eh, e per chi? Perché sui eroi. Ah, ho capito. E dove è quello? Sì, è il segno di tarde. Ah, va bene, da prima. Ma tu non negavano l'altro, va bene, da prima. Una e mezza. Storcare una vita? Ah, con tutte queste sole che mi stoccavi, mi abbaglio. Solo tu qua, tutti soli sono, tutti soli. Io sono solo, tutti soli. Perché io sono solo, tutti soli. Ugo, come finito con la DSL? Ah, la DSL? Ah, quella ragazza è DSL. È stato un po' di pazza, caro mio. Cioè, domenzi, mi hanno mandato la lista, la DSL, con l'indirizzo preciso. Perché la lista ce l'ha scritto all'indirizzo, la lista, ce l'ha scritto, forse se l'indirizzo è sbagliato, scusa, ma ecco, non ho l'indirizzo mai l'indirizzo, non ho l'indirizzo, non ho l'indirizzo, non ho l'indirizzo. Ah, questa è l'indirizzo, la macchina, vado a prendere la buona, vado a cercare, vado a cercare. Caro mio, la macchina, ah. Questa è l'enterprise, l'altra macchina, vado a lì. Bellissimo. Ah, la macchina, oh, il pozo, ah, la macchina, un cattimico. Sì, sì, ma la macchina che hanno posto riservata all'assato, no? Riservata a cui? Eh, agli handicappati. Andicappati? Ma perché, scusa, ma tu, aspettando, aspettando, andacappati, andacappati, signore mio. Ma perché tu lo sai se io ho il giusto problema? Eh, non lo so. Ma non ce l'hai l'enterrab? Tu, tu, tu mi domande la mia, non ce l'hai l'enterrab? Eh, non ce l'hai l'enterrab? L'enterrab non ce l'hai, io ho tu passato a due. Secondo io non hai l'enterrab, qua? Per esempio, qua e non c'è nulla. Eh, non ce l'hai l'enterrab non ce l'hai l'enterrab, scusa, non ce l'hai l'enterrab, qua no. C'è l'enterrab per questo. Ah, l'enterrab, qua, qua si deve fare. Oh, stai a cuccare? Agua, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.